L'attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni inerenti e la circolazione stradale non si arresta con la Polizia di Stato che nel corso del servizio di controllo del territorio eseguito nella provincia nissena negli ultimi tre giorni ha accertato 36 violazioni in materia di circolazione stradale e sequestrato un veicolo. In particolare 10 persone sono state sanzionate per mancata revisione del mezzo, 8 per mancata copertura assicurativa del veicolo, 5 per guida con patente scaduta, 5 per omesso uso della cintura di sicurezza, 3 per mancato utilizzo del casco protettivo e 5 per altre sanzioni. L'attività della Polizia di Stato del controllo del territorio è finalizzata a prevenire gli incidenti stradali e ad assicurare una corretta viabilità a garanzia di tutti i cittadini e di tutti coloro che quotidianamente percorrono le strade e le autostrade della provincia di Caltanissetta.